ma loro giustificano quel posto lì con l'incarburante con le loro spese eh ma che sono stato amore intanto siamo sempre noi siccome non ce ne basta una io ve ne faccio vedere tre allora a me piace molto allora prima di rientrare al lavoro perché sono sul set e sto facendo un servizio fotografico faccio l'ultimo retouch e poi vado ma vi sto parlando di questo mascara che si chiama My Toy Boy di Diego Dalla Palma che è il mio preferito in assoluto ormai lo conoscete molto molto bene tutte quante è andato in sold out dappertutto ma bella notizia che faranno rifornimento in tutte le profumerie ma se siete impazienti per averlo potete fare su e-pub e averlo subito faccio l'ultima passatina e torno al lavoro è fatto allora sto cercando di fare una sorta di mini intervista ma questo pipì qua continua a dire parolacce e mi rovina tutte le stories non c'è storia allora ho notato che indossi la fede Lollo tesoro sì mi sono spostati in questa quarantena un segreto ci sei riuscito benissimo perché non l'ho saputo manco io c'è una mia invitata a matrimonio praticamente ci arriviamo con le mascherine amore eravamo tutti bloccati ad un certo punto ho fatto una call sheet no una video call una che è? una call sheet una video call con il prete con il silico sala sì ci ho sposato col sale ok col sale col sale ci ho buttato dietro il sale e posso che vi è riuscito quindi dopo quanti anni di fidanzamento vi siete sposati? 24 dopo 24? sì lo sai che divorzi subito dopo qui? al 25 allora la prossima domanda che mi è venuta in mente così all'improvviso è quante volte hai fatto l'amore in quarantena? guarda quasi tutti i giorni ma come è possibile? cioè c'è qualcosa che non quadra? dopo 25 anni tutti i giorni? abbiamo ammazzato l'anaglio con del movimento è per questo che sei dimagrito ci avete notato che hai dimagrito tantissimo quanti chili hai perso? 52 52 chili siamo fiei qua c'è Antonia Achille che corregge quanti quanti sono? 55 allora ha perso 55 ci vuoi raccontare un po' dell'intervento? ho fatto questo un intervento che si chiama sleeve gastro non mi ricordo sleeve gastro è la riduzione dello stomaco quindi praticamente ti toglie la fame e mangi pochissimo mangi poco riduci le calorie e tutto quanto riduci le calorie voi capite per quale motivo io non imparo mai l'italiano? fatatone sei magro non ti posso chiamare manco cicciotello più come facciamo adesso? va bene va bene ah l'ho chiamato durante lo shooting secca e sei girato un applauso per Lolo grazie che ha perso 55 chili che è tutta salute grande grazie due volte alla settimana bravo quando ragione faceva tre volte e adesso due vabbè cavolo quanti anni papà? 60? 60 oh mio padre 60 anni 60 due volte a settimana e continuo con una voglia che veramente va bene questo lo pubblichiamo lo stesso perché noi siamo così così qualche rovista cari colleghi impegniamoci per mano perché non ci resta altro che dire cari telespettatori benvenuti alla finalissima di tutti i carori grazie cari colleghi impegniamoci per mano perché non ci resta